Buonasera, sono Gianni Lorenzetti e per diversi anni, almeno 10, sono stato presidente del consorzio Coimpre. È un consorzio che nasce su iniziativa di imprese private per la costruzione di nuovi fabbricati e per la costruzione di una nuova area industriale. Un sistema polifunzionale, non solo artigianale e industriale, ma anche direzionale e commerciale. Siamo inseriti all'interno del progetto Smart Med Park, grazie all'intervento della provincia di Massacarrara. Progetto molto interessante perché dovrebbe consentire alle aziende di raggiungere un efficientamento energetico importante e quindi portare dei risparmi per le aziende che sono all'interno del parco produttivo di una certa sensibilità. Diciamo che il consorzio già dalla sua nascita e a livello di progettazione ha pensato di improntare tutto ciò che era il progetto all'insegna del risparmio energetico, tant'è che si è caratterizzato per una scelta di tipo architettonico andando in una direzione che non era sul prefabbricato, bensì su un fabbricato tradizionale che consentisse di avere dei risparmi energetici molto importanti. Agito anche all'interno di quelle che sono le proprie capacità produttive sui sistemi di produzione e macchinari al fine di ottimizzare il tutto per avere anche lì un risparmio, ottimizzando il risparmio e portando nella bolletta di ogni singolo consorziato degli sconti non di poco conto. Grazie. Grazie.